Atlante delle emozioni della città, la secretissima camera dello cuore, seconda edizione possiamo definirla così, che cosa prevede di diverso? Innanzitutto la location, ci troviamo infatti nel Palazzo Acito dopo essere stati per oltre un anno nella biblioteca provinciale per materia capitale europea della cultura. Un nuovo allestimento che però è estremamente fedele rispetto al precedente, che è curato dall'assistente di Paolo Baroni, lo scenografo che aveva allestito la mostra per Matera 2019, che recentemente è scomparso. Marco Guerrera, il suo assistente, ha preso in mano le redini del riallestimento e adesso è in questo luogo fantastico, bellissimo, pronto ad accogliere i visitatori che verranno a Matera, oltre che agli abitanti. Qual è lo spirito e l'essenza di questo progetto? Allora, la segretissima camera dello cuore nel nuovo riallestimento e in coproduzione con il comune di Matera e parte da quelli che sono gli intenti di mostrare una città in una modalità più originale, più esperienziale. Noi siamo partiti dalla raccolta di 400 mappe emozionali, entrando nelle case degli abitanti. Per mappa emozionale intendiamo la mappa dei luoghi del cuore di ogni abitante di ogni città. Quanti saranno i luoghi del cuore? I luoghi del cuore della città di Matera sono all'incirca 3.000, perché ogni mappa emozionale ne contiene almeno una decina e ogni luogo, oltre che mappato, viene raccontato, quindi diventa significativo perché c'è una storia che si racconta. Tutte queste mappe emozionali prodotte dagli abitanti sono state rielaborate da 40 artisti, seguiti da Stefano Faravelli e da Alessandro Baricco, e sono state riallestite nelle sali di Palazzo Cito. Sono circa 40 mappe emozionali, tutte in movimento, perché il nostro scenografo Paolo Baroni ne ha costruito come una specie di piccole macchine leonardesche, tutte in legno, che muovono in maniera analogica l'intera mostra.